Dopo la notizia della separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello, ora un dettaglio fa sperare in un riavvicinamento. In una foto su Instagram, Alice indossava la fede nuziale alla mano destra, scatenando le fantasie dei fan. Nonostante la separazione annunciata a sorpresa, i due hanno sempre dichiarato di amarsi ancora. I pettegolezzi su un presunto tradimento sono stati smentiti. La fede nuziale è tornata al dito di Alice, facendo sperare in un ritorno di fiamma. Nonostante alcuni sostengano che sia un altro anello, molti credono sia quello del matrimonio. La fine della storia d'amore aveva scioccato i follower, ma i due non hanno mai smesso di amarsi. La coppia ha vissuto periodi difficili, tra cui la depressione. Ora, con la fede al dito e il trasferimento a Milano, tutti sperano in un ritorno di serenità. Grazie a tutti.